La Fondazione Giorgio Amendola e l'Associazione Carlo Levi celebrano a Torino i 120 anni dalla nascita di Carlo Levi, intellettuale torinese antifascista, pittore e scrittore, tra i più autorevoli meridionalisti del nostro Novecento, un vero torinese del sud. La Fondazione Amendola ospita fino al 4 marzo, nella sede di Via Tollegno 52 a Torino, 40 quadri raccolti sotto il titolo I volti del Novecento nei ritratti di Carlo Levi. Nei giorni scorsi il vice sindaco della città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, ha visitato la mostra accolto da Prospero e Domenico Ceraboni. Ci sono i volti dei grandi protagonisti dell'epoca, da Leone Ginzburg a Umberto Terracini, da Giorgio Amendola a Renato Guttuso, da Giuseppe Di Vittorio a Vittorio Foa solo per citarne alcuni, ma anche ritratti personali come quelli del fratello Riccardo, del padre Ercole e diversi autoritratti. Contadini della cultura e della politica, commenta Prospero Ceraboni, instancabile presidente della fondazione Amendola. Io ho conosciuto Levi, torinese, nella mia basilicata e conosciuto Giorgio Amendola, un romano, sempre nella mia basilicata. Quando nel 58 sono venuto qua a Torino e mi sono trovato in piazza CLN, era nella città nativa di Levi e nella città che Giorgio Amendola aveva liberato dal fascismo. E allora dico, quando io mi riscatterò prima a vivere e poi a filosofare? Nel 60, quando ho incominciato ad avere la fortuna di andare a lavorare alla RIV SKF, dico caspita, adesso incomincio a studiare. E allora poi man mano, man mano, man mano, ho pensato a una struttura a questi due personaggi. Io con Levi ho lavorato sul problema dell'immigrazione, avevamo una federazione che si chiama Federazione Italiana di Lavoratori e Famiglia, invece con Giorgio Amendola, che è stato un mio maestro di vita, quando ci siamo rincontrati qui a Torino nel 1962, mi dice, ma cosa fai caffone qua? E di che mi guadagno il pane, e dove lavora? Alla RIV, ma la RIV è una fabbrica produttrice di bene strumentale, tu sei un caffone della Basilicata e io sono diventato un tornitore, caro Giorgione. Allora lui mi ha detto, dice, allora banda le ciance, nessuna laglia più da oggi in avanti, tu sei diventato un proletario, se sei fatto un passaggio da oggetto a soggetto della storia. Ficcati in testa che tu per uscire fuori dalla subalternità non dovete solo rivendicare le cose, dovete invece candidarvi a governarli i processi storici. E io dico, prima o poi, allora io non avevo neanche la quinta elementare nel 58, poi sei andato a scuola, man mano, man mano, man mano, e poi dico, prima o poi farò un palazzo. In questo palazzo ci sarà una sede dove dedicheremo Giorgia Mendola a Carlo Levi. Suggestiva anche la riproduzione fotografica a grandezza naturale del telero Lucania 61, realizzato su richiesta di Mario Soldati in occasione delle manifestazioni del centenario dell'Unità d'Italia. La fondazione Amendola e l'associazione Carlo Levi possiedono dal 2006 questa riproduzione e la espongono nella sede torinese su concessione della sovrintendenza di Matera. L'originale infatti è custodito nel Museo Nazionale di Matera. In mostra anche una interessante raccolta di fotografie dedicate al rapporto tra Carlo Levi e il cinema, con gli scatti sul set di Cristo si è fermato a Eboli.